C'è una prima volta che fa ben sperare, ma ci sono anche altri numeri da cerchiare in rosso al termine del girone d'andata del campionato di Serie C. La prima volta è quella del Lecce, campione d'inverno, anche grazie al successo nel derby contro il Monopoli, primo in classifica al Giro di Boa da quando frequenta la terza serie nazionale. Un buon segno, visto che il titolo d'inverno, seppur platonico, qualcosa vorrà dire, nella stagione in cui la corsa per la Serie B sembra ristretta a tre compagini, oltre alla squadra di Liberani, occhio a Catania e Trapani. Il Lecce, che vince contro il Monopoli con i gol di Cosenza e Caturano, rappresenta il vertice del calcio pugliese, la Fidelissandria, penultima in classifica davanti solo all'Acragas in disarmo e l'altra faccia della medaglia. I numeri dicono che con Papagni in panchina la squadra bianca-azzurra, sconfitta nel derby con la Virtus Francavilla, ha raccolto più punti di quanto non abbia fatto con l'Oseto. Ma è la classifica a fotografare una stagione più faticosa di quanto non si potesse immaginare all'inizio. La salvezza diretta non è un traguardo impossibile, anche se Papagni dovrà fare di necessità a Virtus con una squadra che difficilmente verrà rivoluzionata con il mercato invernale. I numeri raccontano anche della crisi profonda che attraversa il Monopoli. Con quella subita in Lecce, la squadra di Tangorra è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate. L'unico punto conquistato contro il Trapani non è servito per evitare l'erosione del tesoretto messo da parte nelle prime giornate di campionato. Tangorra per adesso resta al suo posto, anche se la gara di sabato a Cosenza potrebbe rappresentare un cronceria sul suo destino. I numeri dicono che il Biceglie segna poco, 16 gol in 18 giornate e sciupa tanto. È accaduto con il Siracusa, la storia si è ripetuta in casa con il Fondi. La classifica non preoccupa, ci sono sette punti di vantaggio sulla zona play-out, la mancanza di continuità probabilmente qualche pensiero lo dà al tecnico Zavettieri. Gli ultimi numeri sono quelli della Virtus Franca Villa. Il successo sulla Fidelisandria è il quinto di fila in casa. La squadra di D'Agostino dovrebbe provare a cambiare passo in trasferta, ma sabato c'è il derby a Lecce, la squadra campione d'inverno di questo torneo.